Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, ci sono 5 km di coda per un veicolo in avaria tra Calenzana e BV1 Variante verso Bologna. Ricordiamo che oggi e domani in orario 9.18 è chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la 1 Direttissima e Roncobilaccio verso Bologna per lavori. Chi è diretto a Bologna deve quindi utilizzare la 1 Direttissima. Infi Pili personale su strada tra Empoli Ovest ed Empoli verso Firenze in uscita a Livorno Porto provenendo da Livorno e tra Lavorie e Vicarello in direzione Mare. Per le statali prudenza sulla stale 12 della Betone del Brennero per fondo stradale dissestato tra Valico della Betone e Poggio Rusco nei due sensi di marcia. Ci spostiamo sulla SR 429 di Valdelsa fino all'11 novembre in orario 0.24, senso unico alternato al km 65 circa nel comune di Castelfiorentino. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto da Agnase e Fedeli, un buon proseguimento d'ascolto.